Le sei maestre accusate di maltrattamenti nei confronti di un bambino della scuola materna di Mileto, centro e provincia di Vibo Valencia, sono state condannate. Ieri la sentenza del Tribunale, tre anni e sei mesi di reclusione sono stati inflitti dai giudici ad Atriana Mangone, Francesca Deliguori, Cimino, Elena Maglierano e Maria Teresa Spina, tre anni invece a Maria Teresa Riso e Anna Maria Veneziani. Tutte le insegnanti sono state interdette dai pubblici uffici per cinque anni, pene addirittura superiori rispetto alle richieste del pubblico ministero che aveva invocato due anni e quattro mesi di reclusione nei confronti di Adriana Mangone, docente nella sezione in cui si trovava il bambino che sarebbe stato vittima dei maltrattamenti e per Liguori Cimino al tempo fiduciaria del dirigente scolastico. Due anni di reclusione invece era la richiesta per Riso, Spina e Magliaro, un anno e otto mesi, per Veneziani. L'inchiesta, denominata Dorro del Ligo, aveva avuto inizio nel 2011 da una informazione confidenziale ai carabinieri di Mileto che riferiva di presunti maltrattamenti su minori perpetrati da alcune maestre della scuola per l'infanzia ed in particolare nei confronti di un bambino che sarebbe stato percosso a causa della sua vivacità. Successivamente, il 26 aprile, alla caserma veniva recapitato in forma anonima un plico contenente un DVD sul quale erano impresse tracce audio-video che ritraevano l'interno di un edificio scolastico ed alcune donne nell'atto di rimproverare un fanciullo che piangeva. In poco tempo si era risaliti alla identità delle persone e al nome dell'edificio scolastico e così la procura aveva disposto l'attivazione di un servizio di videoriprese con l'installazione di sei telecamere nascoste che avevano confermato a parere dell'accusa le violenze nei confronti di Domenico i cui genitori si sono costituiti parte civile.